Veniamo ora a quella che è una parte fondamentale della parte di montaggio, quindi l'esportazione. Una volta che abbiamo terminato il nostro lavoro e vogliamo esportarlo. Beh, per prima cosa dobbiamo sapere che dobbiamo dare a Premiere Pro la possibilità di poter scegliere e decidere cosa esportare. Come? Dando sulla nostra timeline un in e un out. Quindi dobbiamo dire ad Adobe Premiere Pro di esportare da un punto ad un altro. Ad esempio, io nella mia timeline ho soltanto una clip, quindi andrò all'inizio della mia timeline e premerò I sulla mia tastiera, così da impostare l'in. Andrò poi alla fine e premerò il tasto O, oppure posso utilizzare questa scorciatura qui sul monitor per impostare il mio out. Così facendo ho appena detto da Adobe Premiere Pro di esportare questa porzione di video. Fatto ciò, quello che ci rimane da fare è andare su File, Esporta, File Multimediali. E quello che ci si aprirà è il pannello di esportazione, quindi dove noi possiamo andare a decidere tutte le nostre impostazioni per l'esportazione. Come funziona questo pannello? Beh, è composto da due parti. Abbiamo la parte sinistra dove vediamo il nostro output, quindi vediamo tutte le immagini che verranno esportate. Abbiamo la possibilità di far decidere, nel caso in cui la dimensione del frame sia differente da quella che noi impostiamo all'interno del panno del progetto, se far scalare e adattare, scalare per riempire la nostra immagine o allungare per riempire la nostra immagine. Nella parte destra invece abbiamo le impostazioni di esportazione, abbiamo il formato, quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra i vari formati. Abbiamo sotto la possibilità di scegliere tra un preset, un predefinito, che possiamo o creare noi, oppure ne troviamo tanti realizzati da Adobe. Possiamo scegliere di aggiungere un commento, oppure cliccando su questo pulsante, sul nome, ci verrà chiesto dove salvare il nostro file e il nome da assegnargli. Ancora possiamo decidere se esportare solo video o solo audio, o esportarli entrambi, e qui avremo un ripilo delle nostre impostazioni. Scendendo un pochino più sotto, abbiamo diversi pannelli da poter configurare. Il primo pannello è quello dedicato agli effetti, e voglio mostrarvi soltanto una cosa in particolare, che è quello della possibilità di applicare una LUT a tutto il nostro esportato. Quindi se noi montiamo un determinato video che avrebbe bisogno di una LUT su tutte le clip, possiamo decidere di montare senza applicare nessuna LUT e poi farlo esportare applicandogli quella determinata LUT. Poi ci sono tutta un'altra serie di impostazioni piuttosto avanzate, come la sovrapposizione di un codice di tempo, dove dovesse servire per esportazioni e per lavorazioni un pochino più complesse, il limitatore video che ci permette di limitare la regolazione del video, la normalizzazione del volume dell'audio. Insomma abbiamo tantissime possibilità di controllo, ma quelli più importanti sono quelli dedicati alla parte video, dove abbiamo la possibilità di scegliere la larghezza e l'altezza del nostro fotogramma, che in questo caso sono decisi dal preset, perché noi abbiamo richiamato un preset. Se vogliamo andare a modificare ci basterà deselezionare questa spunta e andare a modificare quelli che sono i nostri parametri. Scegliere la frequenza dei fotogrammi, nel mio caso sono 25, possiamo andare tranquillamente a sovracampionare il nostro file. Scegliere se l'immagine deve essere progressiva o interlacciata, l'aspetto dei fotogrammi e scegliere di renderizzare alla profondità massima dei bit consentiti dalle nostre immagini. Poi abbiamo le impostazioni di codifica. Queste sono molto varie e possiamo decidere in base al nostro computer, alla nostra macchina che utilizziamo, se utilizzare un'accelerazione hardware o software. Ma tutte queste impostazioni variano in base alla tipologia di file che stiamo esportando. Ad esempio c'è un valore molto importante che è quello del bitrate che ci viene dato in base al tipo di formato che stiamo scegliendo. Ad esempio siamo in H.264, abbiamo la possibilità di scegliere il tipo di codifica e quanto deve essere pesante la nostra codifica, quindi il bitrate di destinazione. Abbiamo poi il controllo, la chiave da dare, se il nostro video è un video VR che stiamo editando. Poi abbiamo il pannello dell'audio dove abbiamo la possibilità di selezionare tutte quelle che sono le impostazioni dell'audio che verrà esportato. Abbiamo poi la possibilità di decidere se esportare o meno i sottotitoli nel caso in cui li avessimo creati all'interno di Premiere Pro o di autopubblicare in automatico il nostro video una volta esportato su una determinata destinazione, che sia Twitter, che sia Vimeo, che sia un FTP, che sia Facebook o quant'altro. Proprio sotto abbiamo poi la possibilità di scegliere di usare la massima qualità di render, di usare le anteprime dove abbiamo generato delle anteprime all'interno del nostro progetto, di reimportare l'esportato all'interno del nostro progetto, di impostare un codice di tempo iniziale, se non partiamo dallo zero possiamo scegliere di farlo partire noi dallo zero e dove è consentito di eseguire il render solo del canale alfa. In più poi abbiamo la possibilità di scegliere globalmente per tutto il progetto il tipo di interpolazione che devono avere i fotogrammi. Nel caso in cui abbiamo rallentato più di una clip possiamo scegliere senza dover andare per ogni clip rallentata ad impostare il tipo di campionamento e scegliere ad esempio il flusso ottico per tutte le nostre clip. Infine alla fine della nostra configurazione abbiamo due possibilità. O cliccare sul pulsante esporta e comincerà l'esportazione di Adobe Premiere Pro oppure premere sul pulsantino coda. Cliccando sul pulsantino coda verranno trasferite tutte le informazioni di esportazione all'interno di un altro software che è Adobe Media Encoder e grazie ad Adobe Media Encoder noi abbiamo la possibilità adesso si sta aprendo poi adesso ve lo mostrerò abbiamo la possibilità di aggiungere più file di esportazione in coda uno dietro l'altro e continuare a lavorare all'interno di Adobe Premiere Pro e poi in un secondo momento quando avremo deciso di voler terminare di lavoro possiamo lanciare la nostra coda di render e quindi renderizzare tutti i nostri lavori contemporaneamente. Ecco questo è Adobe Media Encoder e come vedete è stata messa all'interno della mia coda di render il mio file che ho deciso, la mia timeline da esportare con le impostazioni che ho deciso mi basterà premere sul pulsantino play per far partire quello che è il render la differenza tra Adobe Media Encoder e Premiere Pro nell'esportazione è sostanzialmente che se utilizziamo l'esportazione di Adobe Premiere Pro non possiamo utilizzare il software perché dovrà codificare ed esportare il file mentre se mettiamo in coda di render con Adobe Media Encoder abbiamo la possibilità di aggiungere più file in coda e lanciare una sola volta il render così lui li realizzerà tutti quanti insieme. grazie a tutti a tutti a tutti